Musica Ma perché devo finire sempre con quelli col prestigio massimo? Cioè, io mi immagino la mia squadra Con minchioni, bimbi minchia di 12 anni E magari due di quelli sono anche con lo schermo condiv... Ah no, quello 116, prima volta nella mia vita, strano Che non sanno neanche come si tiene in mano un controller Io ero di vepro Intanto faccio schifo più di loro Sti cazzi, poi... Perché sta laggando? Perché la... Perché lagga? Sì, ma ho il mouse veloce, un attimo Un attimo, mi sta scarcazzo Sento qualcuno Sento qualcuno dietro Dietro è il mio compara, attenzione E qui c'è qualcuno Che mi ucciderà Oh, non ho trovato manco uno Ma che figo Oddio, oddio Da dove? Niente, non mi fa vedere la morte, ok Ok Ma cos'è? Sto bug grafico E questo? E questo? E questo? Fighi bull Bastardo Cliccato la coltellata Eh, sono abituato su ghost Che ho messo la rotella come coltellata Nei, ho cliccato la rotella E ho lanciato questo Dov'è? Dov'è? Sei giù? Corri Ma cosa fai? Madonna, che cazzo è? Nuovo ballo? Tan tan taratara Che mira di merda C'ho una mira? Che il mio buco del culo mira meglio Oddio Avangula mamma Ah, chi te è morto? Che cazzo vuoi tu? Sì Siamo forti Boh, per seconda Ah, addirittura Ne ho umiliati due Cos'era? Gli è arrivato un colpo addosso Non gli ha fatto niente Bug grafici Ma va bene Non so perché Per oggi è tutto Eeeh Sa tutto Siamo alla prossima 5 like se volete Un altro video di code Sa tutti